Marco Baroni resta al suo posto, ma la gara di sabato prossimo all'Adriatico con Lentella sarà decisiva. Il Pescara sta vivendo il momento più difficile degli ultimi tre anni. Fannalino di coda del torneo con appena tre punti in sei gare, ancora secco di vittorie. Il Delfino è già quasi al bivio della stagione. Contro la matricola di Chiavari fra quattro giorni sarà vietato sbagliare. La società ha confermato la fiducia al tecnico che sembra avere la squadra dalla sua parte, ma il destino dell'allenatore di Firenze è inevitabilmente legato anche ai risultati. E quella con la matricola Ligure sarà una gara senza prova d'appello. Tre punti per cominciare la risalita, ma anche per scrollarsi di dosso paure e timori. Quello del Pescara sembra anche e soprattutto un problema psicologico. La mancanza di risultati ha fatto perdere certezze ad una squadra che pure in precampionato e Coppa Italia aveva fatto vedere buone cose. Ora però il momento, come dice Marco Baroni, di lavorare in silenzio e far parlare il campo. Battere l'entella e la condizio sine qua non per ripartire. Al Pescara fino ad oggi non è andata bene una. Pali, traverse, rigori non dati e una serie incredibili di occasioni fallite, anche se con i sé e con i ma si fa poca strada. Le attenuanti all'11 biancazzurro vedi tanti indisponibili non mancano, ma ora serve una pronta risposta anche perché la classifica, seppure dopo appena sei giornate, è già a dir poco deficitaria. La difesa con dieci gol al passivo è la peggiore del torneo dopo quelle di Varese e Trapani, che però contano rispettivamente sei o nove punti in classifica. E da oggi il pensiero è solo sull'entella, che il Pescara ancora una volta affronterà con diverse defezioni. Maniero e Salamon difficilmente potranno essere recuperati, mentre Politano e Melchiori usciti malconci dalla gara del Massinino non sono al meglio della condizione. Mai come questa volta però conteranno le motivazioni più che gli uomini. In difesa pronto a tornare titolare dal primo minuto Uros Ciosic al posto di Emanuele Pesoli, autore di una prova ancora negativa anche in terra siciliana. Scaricare però tutte le colpe sull'ex Carpi sarebbe ingeneroso, oltre che sbagliato.